Disponiamoci alla recita del Santo Rosario, cercando il raccoglimento della preghiera. Vi invito a fare attenzione ai vostri telefoni cellulari e a pregare insieme, ascoltandoci reciprocamente e ad una sola voce. Grazie. Grazie a tutti. Amici carissimi, dalla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV2000 e il sito internet del Santuario. Oggi, come ogni venerdì, portiamo nella nostra preghiera i giovani di tutto il mondo, affidiamoli alla Madre del Redentore. Carissimi giovani, Papa Francesco vi esorta, interrogatevi con animo puro e non abbiate paura di dire sì a Dio, di rispondere a quello che Dio vi chiede. A partire dal vostro sì alla chiamata del Signore diventerete nuovi semi di speranza nella Chiesa e nella società. Non dimenticate, la volontà di Dio è la nostra felicità. Preghiamo per le sue intenzioni, ricordiamo tutti gli ammalati e quelli che ci sono stati segnalati anche via e-mail o via telefono e i cui nomi deponiamo nel cuore di Maria l'Immacolata. Meditiamo questa sera i misteri dolorosi del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, l'agonia di Gesù nel Gezzemani. La parola beati, ossia felici, compare nove volte in quella che è la prima grande predica di Gesù. È come un ritornello che ci ricorda la chiamata del Signore a percorrere insieme con Lui una strada che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera felicità. Beati puri di cuore, perché vedranno Dio. Cari giovani, come vedete questa beatitudine tocca molto da vicino la vostra esistenza ed è una grazia della vostra felicità, una garanzia. Perciò vi ripeto ancora una volta, abbiate il coraggio di essere felici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Parciò oggi il nostro pane e potiamo, e che mette a noi i nostri detti, come noi che creiamo i nostri dettori, e non ci dure in tentazione, ma di crescere la mamma. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Secondo mistero del dolore, la flagellazione di Gesù. Nei Salmi troviamo il grido che l'umanità rivolge a Dio dal profondo dell'anima. Chi ci farà vedere il bene? Sei da noi, Signore, è fuggita la luce del Tuo volto. Il Padre, nella Sua infinita bontà, risponde a questa supplica inviando il Suo Figlio. In Gesù, Dio assume un volto umano. Con la Sua incarnazione, vita, morte e risurrezione, Egli ci redime dal peccato e ci apre orizzonti nuovi, finora impensabili. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga nel Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Lassi oggi il nostro pane, come chiamo, e metti a noi i nostri debiti, Come noi ripetiamo i nostri creditori, e non ci indurre in tentazione, ma libera in manale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i creditori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come è il principio, lo sei sempre, se sei sempre, se sei sempre. Terzo mistero del dolore, Gesù è incoronato di spine. I primi capitoli del Libro della Genesi ci presentano la splendida beatitudine alla quale siamo chiamati, e che consiste nella comunione perfetta con Dio, con gli altri, con la natura, con noi stessi. Il libero accesso a Dio, alla sua intimità e visione, era presente nel progetto di Dio per l'umanità, dalle sue origini, e faceva sì che la luce divina permeasse di verità e trasparenza a tutte le relazioni umane. In questo stato di purezza originale, non esistevano maschere, sotterfugi, motivi per nascondersi gli uni agli altri. Tutto era limpido e chiaro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. e il benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come è il principio, ora e sempre, nel secolo e sempre. Quarto mistero del dolore, Gesù sale il calvario carico della croce. Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuona continuamente l'invito del Signore cercate il mio volto. Allo stesso tempo, ci dobbiamo sempre confrontare con la nostra povera condizione di peccatori. È quanto leggiamo, per esempio, nel Libro dei Salmi. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Ma non dobbiamo avere paura né scoraggiarci. Nella Bibbia e nella storia di ognuno di noi vediamo che è sempre Dio che fa il primo passo. È Lui che ci purifica affinché possiamo essere ammessi alla Sua presenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie oggi il nostro pane quotidiano, che mette a noi i nostri debiti, come noi rilettriamo i nostri debitori, e non ci pura in rilettazione, ma è la sua mamma. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso muore in croce. E così, in Cristo, cari giovani, si trova il pieno compimento dei vostri sogni di bontà e felicità. Lui solo può soddisfare le vostre attese, tante volte deluse dalle false promesse mondane. Come disse San Giovanni Paolo II, è Lui la bellezza che tanto vi attrae, è Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Prendi Dio, prega per noi peccatori, che sei benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Salve Regina, Madre di misericordiae, vita dulce e tu, espes nostra salve. a te esperti 좋아요, mumbo è la nostra morte. a te e il frutto di customer spirito, a te suspiriam, firmament, fermamentes innamo, ma glittà Ổ aconteceu. E l'aiuto ad voca nostra, che i tuoi misericordi sopuros ad nos convere. E l'aiuto ad nos convere, che i tuoi misericordi sopuros ad nos convere. E l'aiuto ad nos convere, che i tuoi misericordi sopuros ad nos convere. Se in una società deturpata dall'odio e dalla violenza sapete accogliere ed amare tutti, siete costruttori e artigiani della pace. I giovani e la pace camminano insieme. Se sapete rimboccarvi le maniche davanti al male, al dolore, alla disperazione, siete come Maria, presenza amica e discreta che si dona gratuitamente. Se avete il coraggio di dire in famiglia, nel lavoro, nella scuola, tra gli amici, che Cristo è certezza, siete il sale della terra, la luce del mondo. O Maria, te li affidiamo, tu che sei madre di Gesù e madre nostra. Prendili per mano e guidali sulla via della vita. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del Cielo, a Lourdes ritorna il Poco feglie. Ave, 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 ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. 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 Grazie. 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 Grazie.